Buongiorno a tutti, come diceva questa mattina il dottor Massia, gli organi di vigilanza sono giovani in Europa e anche noi come Ufficio Studi siamo molto giovani, siamo nati da poco. Probabilmente abbiamo fatto anche qualche errore, per questo vorrei ringraziare la Segreteria Nazionale e il Segretario Nazionale del supporto che ci danno. Visto che è la prima volta che come Centro Studi parliamo a una conferenza di organizzazione, volevo anche ringraziare i miei collaboratori, Renato Biasizzo, Massimo Bramante e Marco Agugliari, che mi aiutano e mi supportano, perché spesso vedete il mio faccione, però dietro il mio faccione c'è anche tanto lavoro di tanta altra gente. Il mio intervento sarà diviso in due cose, due habitat e tre driver. Perché ho deciso di fare due habitat? Perché innanzitutto è l'ambiente, il primo habitat è l'ambiente sul quale noi dovremo capire dove lavoriamo. E noi come progetto futuro studieremo un habitat che si chiama finanza etica. Perché vorremmo studiare e approfondire questo argomento? Perché sentiamo che nella società e negli interventi che ci sono stati c'è una necessità di avere un mondo legato a certi principi etici. Per noi etico non è solamente alimentare l'ascensore della filiale con l'energia rinnovabile. Significa anche fare delle scelte che, riteniamo in una logica di profitto, debbano essere compatibili con l'essere umano. E questo è un elemento secondo noi molto importante. E quindi le scelte manageriali devono essere orientate a questo. Inoltre la logica della retribuzione del management, che il segretario generale ha anche richiamato, è un elemento che deve essere ragionato all'interno del contesto in cui esso si sviluppa. Cioè, se ci sono da fare i sacrifici, li dobbiamo fare tutti. E in maniera progressiva. Perché altrimenti rischiamo di rendere poveri troppe persone. L'indice di disuguaglianza sociale, calcolato dall'ONG inglese Oxfam, dice che negli ultimi 13 anni l'1% più ricco ha guadagnato 182 volte quello che ha guadagnato il 10% più povero. E questo ti dice come sta muovendo il mondo. Quindi questo è l'ambiente. E' un ambiente in cui, do due dati, il settore bancario ha perso nei primi nove mesi dell'anno il 5,1% del margine di interesse, il 2,9% delle commissioni e ha aumentato le rettifiche su crediti del 30%. Le cose non stanno andando granché bene. Il settore assicurativo viaggia allo stesso modo, perché tassi bassi sicuramente non aiutano. Cambierà qualcosa? Probabilmente in futuro. Sì, sicuramente ci saranno ancora ulteriori problemi sui ricavi, perché le politiche della Banca Centrale Europea non favoriscono sicuramente la redditività delle banche. L'abbattimento della perdita del rating dall'ultima agenzia di valutazione del credito canadese farà aumentare addirittura il costo delle GAX, delle garanzie. Quindi tutte le operazioni di cartoralizzazione del Fondo Atlante avranno sicuramente anche un costo maggiore. Quindi c'è un mondo un po' in difficoltà. Passo al primo driver che volevo a questo punto dirvi su cosa noi lavoreremo. Lavoreremo sull'impatto che la tecnologia avrà nei canali distributivi, nel settore bancario e nel settore assicurativo. In questi giorni molti hanno parlato di tecnologia, robot advisor, chabba, chatta, bot, 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 cioè non parlo inglese io purtroppo. E quindi infatti ho usato il termine driver e habitat non parlando inglese, quindi è tipico dell'italiano di vendere quello che non ha. E quindi su questo dovremmo capire perché non preoccupa il concetto dell'automazione. Su questo argomento ne parlavo con il senatore Damiano e mi diceva ma guarda che non è sbagliato perché tu pensa che alla FIAT una volta si facevano lavori a mano e adesso c'è i robot che li fa, quindi non è tutto negativo. E io dico sì forse hai anche ragione che non è tutto negativo, però io lo devo vedere in prospettiva. E in prospettiva c'è una cosa certa, nessuno sa dove si andrà, ma nonostante tutto tutti sono concordi nel dire che i lavoratori perderanno il lavoro. A Davos l'anno scorso c'è stato un celeberrimo convegno dal titolo Il lavoro senza lavoratori. Quindi c'è questa certezza e noi vorremmo ragionare e capire quali impatti avranno questi. Il secondo driver con cui io vorrei parlarvi si chiama chimico. Perché lo dico chimico? Perché nel settore bancario ci sarà una contaminazione. È una contaminazione che in parte sta già avvenendo. Perché la chiamo contaminazione? Perché è finita l'idea della cultura della foresta pietrificata. Per cui tutto quanto veniva fatto in house. Le banche che andavano male ci si salvava fra banche. Il fondo di settore era di settore. Ci si salvava sempre tra di noi. Perché? Perché non c'era nessuno di nuovo. Le banche non hanno mai conquistato fette di mercato una dall'altra. Nessuno ha mai innovato né in processi né in prodotti. Le uniche banche che sono cresciute con quote di mercato sono quelle che si sono fuse. Vuol dire che è un mondo statico. Che formalmente cresce solo quando ci si fonde. Oggi non è più così. Perché hanno fatto una domanda di Google sul mercato assicurativo. Ma oggi le piattaforme tipo Amazon, Alibaba o lo sviluppo delle piattaforme peer to peer sul credito o il crowdfunding dicono che ci sono nuovi attori nel mercato. Quindi io non posso salvare un'altra banca perché c'è qualcuno che può prendere quella fetta di mercato. Quindi di per sé non ci possiamo più buttare col paracadute. Dobbiamo evitare di buttarci. Questo è il problema. Poste italiane sarà uno degli argomenti che noi svilupperemo perché è il primo caso in Italia di contaminazione. Un settore, quello delle spedizioni, è entrato nel settore finanziario con le assicurazioni, con i conti, col banco posta. Oggi il fatturato di poste italiane è solamente per l'11% legato alle spedizioni. Tutto il resto sono servizi finanziari. Su questo noi dobbiamo ragionare. Perché in questi giorni si è parlato molto anche del lavoro del futuro. Io vedendo un attimo come ci si muove, come dati, sono concorda nel fatto che la sicurezza nel posto del lavoro la avremo solamente se come persone riusciremo continuamente a imparare. a imparare continuamente lavori nuovi. Altrimenti saremo tagliati fuori, al di là dei robot. Però su un'altra cosa sono anche ampiamente convinto. Che lavorare per una grande azienda non dà la sicurezza di avere un posto di lavoro. Chi lavorava in Kodak non avrebbe mai pensato di perdere il posto di lavoro. Chi lavorava in Nokia, in Motorola, in Blackberry, che erano colossi della telefonia, non pensava mai di perdere il lavoro. Oggi li troviamo al museo della tecnica come un fatto storico, questi marchi. Perché? Perché non hanno capito le innovazioni. Se un'azienda non innova effettivamente rimane chiusa. Quando Silvia Boniardi prima parlava della banca dei tabaccai, parlava dell'immobiliare, noi come Ufficio Studi non discutiamo le scelte aziendali, però da questo trend capiamo che si chiama contaminazione. E' questo secondo noi un driver sul quale bisogna effettivamente che ci si può. Poi ci possono fare scelte aziendali diverse. Nel libro mercato ci sta di tutto. Ma queste sono secondo noi alcune situazioni che devono essere valutate. Passo al terzo driver. E riguarda la demografia. Negli ultimi dieci anni in Italia abbiamo avuto un incremento di 2,9 milioni di persone. Di queste un milione e nove hanno oltre i 65 anni. Solamente 160.000 sono comprese tra gli 0 e i 14 anni. Noi ci occuperemo di previdenza. Parleremo di previdenza. Perché questi dati ci dicono che probabilmente c'è un problema previdenziale in futuro. Perché lo Stato ha dei problemi di finanza pubblica. Il lavoro. Non riusciamo a creare posti di lavoro. Perché? Al di là che tutti siamo abituati a commentare i dati mensili sull'occupazione negli ultimi dieci anni abbiamo incrementato la forza lavoro di un milione e duecentomila unità. Di queste solo 58.000 sono occupazioni. Un milione e cento sono gente che cerca lavoro. E c'è una grande differenza tra mangiare una pasta asciutta e pensare di mangiare una pasta asciutta. Se noi andiamo lo ipotizziamo come una corsa dieci anni fa corravamo con cento chili nelle spalle dieci anni dopo corriamo con centocinque chili sulle spalle e dieci anni in più. Quindi facciamo ancora più fatica. È per questo che la previdenza diventerà centrale. Quindi come Ufficio Studi cercheremo di approfondire e siamo disposti a sviluppare anche con altri se necessario se la segreteria lo riterrà opportuno questi argomenti che diventano diventano vitali. Altro elemento che noi approfondiremo nel futuro sarà la finanza islamica. Al di là di come la gente lo pensi in Italia ci sono un milione e sette di musulmani che rappresentano il 3% della popolazione. Si stima che nei prossimi dieci anni raddoppieranno. Per noi ragionare di finanza islamica significa dare l'opportunità alle persone di conoscere a tutti quanti noi di capire un mondo che per certi versi conosciamo per altre tristi realtà. Però siamo convinti che in Italia c'è molto più Islam di quanto noi pensiamo. Gli azionisti di Unicredit sono dei fondi di Abu Dhabi e la Banca Libica. L'Italia è gestita da una compagnia del Golfo dobbiamo ragionare che l'MPS si è andato a cercare i fondi in Qatar non si è andato a New York da JP Morgan che con 24 miliardi di utile poteva acquistarsela con due mesi di lavoro il Monte Paschi alla fine. Quindi c'è molto Islam in Italia quindi credo che sia un elemento sul quale noi dovremmo ragionare. Concludo si è parlato oggi anche ieri di educazione finanziaria c'è stata una presentazione l'altro giorno di una ricerca in cui in Italia sono state sono partite 206 iniziative su educazione finanziaria penso che o qualcuno prende in mano la situazione e decida di coordinare altrimenti avremo sempre italiani ignoranti cioè non è possibile che ognuno decida di fare qualcosa parte e non si vada più da nessuna parte cioè ci vuole coordinazione un po' come che ognuno decida qual è il programma scolastico che deve fare una scuola non si riesce ad avere un coordinamento non si riesce ad aumentare il grado di penetrazione dell'educazione finanziaria perché dobbiamo ricordarci una cosa noi che siamo bancari che i clienti e il denaro sono i nostri datori di lavoro e dobbiamo farli tutto per curarli grazie 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 Roberto e grazie a tutta la sua squadra diamo la parola a Marco Mariani quindi e si prepara Stefano Grosso Campana dopodiché avremo Donatella Carione avremo Antonio Cerabona avremo Armando Ciocca Grazie a tutti